Udienza di convalida questa mattina presso il tribunale di Arezzo sede di staccata di Sansepolcro per l'uomo e la donna di origine rumena arrestati nei giorni scorsi dagli agenti di polizia del commissariato di Sansepolcro. I due erano stati sorpresi dagli agenti nel parcheggio del centro commerciale Valtiberino di Sansepolcro dopo aver rubato all'interno di una profumeria articoli per un valore di circa 500 euro. Questa mattina verso le 12 i due sono arrivati a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria che ha prelevato la donna dal carcere femminile di Sollicciano e l'uomo dalla casa circondariale di Arezzo. Nel corso dell'udienza data la poca conoscenza della lingua italiana da parte dei due imputati è stato necessario l'intervento di una interprete. Il processo si è aperto con una contestazione supplettiva da parte del PM Bernardo Albergotti ma l'avvocato difensore nominato ha chiesto la definizione con patteggiamento. Dopo una camera di consiglio durata circa 20 minuti il giudice Gianni Fuganti ha decretato per entrambi un anno di reclusione con sospensione della pena 400 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. I due cittadini rumeni finita l'udienza sono stati scarcerati.